Purtroppo noi ci troviamo ad affrontare questo problema di iniziare una preparazione molto importante per noi perché quest'anno giocheremo per il secondo anno consecutivo in Champions, quindi deve essere una preparazione a massimi livelli però purtroppo non possiamo soffrire del palazzetto dello sport, il palanino pizza, perché è soggetto a dei lavori, hanno rifatto il tetto e dovrebbero ristrutturare gli spogliatoi, quindi hanno sbantato il parquet e noi come abbiamo detto chiaramente la nostra collaborazione con il comune è ottima, il nostro rapporto è ottimo, quindi ottimi rapporti, però purtroppo sono tre o quattro anni all'inizio campionato che ci troviamo o per un motivo o per un altro a iniziare la preparazione senza il nostro pala sport, chiaramente con tutti i disguidi che possono derivare, possono scaturire da questo inconveniente. Quest'anno dobbiamo per forza, intanto ci siamo strutturati e organizzati per andare a giocare a Montecchio, al Paladionigi, sono stati molto gentili, anzi li ringraziamo per la loro ospitalità e poi dovremmo sopperire questa mancanza andando alla trave a Fano, quindi questa settimana la squadra si allena a Fano. Chiaramente purtroppo quando non hai il tuo palazzetto dello sport dove poter svolgere una preparazione ci possono essere delle problematiche perché sai i giocatori sentono molto il campo, sentono molto le distanze e questo un pochino ci dispiace. L'ufficio dello sport ci ha assicurato che il palazzetto dello sport dovrebbe essere pronto in settimana perché oggi dovrebbe arrivare il parquet, dovrebbero montare nel giro di tre o quattro giorni dovrebbe essere pronto per i nostri allenamenti. Però sai, tra quello che poi si dice e quello che si fa ma proprio perché magari ci sono degli inconvenienti lavorativi, ci sono degli inconvenienti magari nel posizionamento del parquet la certezza non c'è. Quindi noi, ti dico la verità, speriamo che in settimana, a fine di questa settimana o ai primissimi della prossima, possiamo entrare nel nostro palanino pizza. Questa è la prospettiva per la squadra, per gli allenamenti. Qual è invece la prospettiva per i tifosi dell'Ital Service? Qual è la politica al momento di rientro nei palasport per quanto riguarda il calcio a 5? Ma guarda, noi dipendiamo in tutto e per tutto dalla FIGC e quindi la FIGC si rifà un pochino a quelle che sono le norme sanitarie dell'Istituto Superiore di Sanità, quindi con tutte le problematiche, tutti i permessi e le chiusure che vengono un pochino così emanate dal governo. Non penso ci siano deroghe. Noi abbiamo sabato scorso, c'è stata la conferenza stampa di presentazione del nostro nuovo sponsor tecnico Nike e il presidente Ceriscioli giustamente aveva detto che ci sarebbe stato un allentamento, soprattutto in strutture come la nostra che contengono 2100 persone e quindi magari un allentamento di un 25-30% della capienza, arrivare a 500-600 posti a noi già sarebbe molto utile perché potremo occupare in questo flusso di persone tutti quelli che sono gli abbonati considera che noi l'anno scorso abbiamo fatto 500 abbonamenti. Però adesso visto che è stato emanato un altro DPCM dove viene bloccato e dicono che fino al 7 ottobre non possa entrare nessuno né nei palazzetti né negli stadi. È una situazione, ti dico la verità, un pochino confusa. Noi dal canto nostro abbiamo incominciato da ieri la vendita al Palanino Pizza, dalle 18 alle 20, lo facciamo tutti i giorni, nell'unione di giovedì, della membership card, quella card che comunque ti dà delle garanzie un pochino sulla prelazione della vendita degli abbonamenti, sulla vendita dei biglietti, sugli sconti per i pullman come abbiamo spiegato sabato in conferenza stampa. Però noi possiamo lanciarne, quindi estendere sul mercato solo 150, perché ad oggi sembra che comunque la possibilità di fare in tre persone sia limitata alle 200 unità. 50 le dobbiamo tenere per noi, per la società, per le moglie, per i figli dei giocatori, quindi per i dirigenti. Ne rimarrebbero 150. Noi abbiamo iniziato la vendita, ieri c'è stata già una corsa all'acquistina, abbiamo già venute 60-70. Oggi sicuramente, cioè rischiamo di finirle nel giro di due giorni. Ultima cosa, parliamo della squadra che naturalmente si sta approcciando con una preparazione diversa, tanti paletti, tante restrizioni, tante visite mediche. Come procedono le cose? Noi guarda, noi siamo sempre stati molto attenti come società e anche io personalmente come azienda, al rispetto di tutte le norme possibili, tutte le norme che riguardano il protocollo dell'Istituto Sanitario Nazionale. Nel mese di giugno-luglio tutti i nostri giocatori hanno fatto testi orologici insieme ai miei dipendenti. Abbiamo fatto tre o quattro testi orologici e fortunatamente erano tutti negativi. Sabato mattina in azienda da me abbiamo organizzato uno screening di tamponi, abbiamo fatto tutti i tamponi, quindi io, tutti i nostri dirigenti e tutta la squadra con qualche mio dipendente, in modo così che incominciando, come hai detto giustamente tu, le amichevoli, un approccio al campionato, il 2 ottobre avremo il Memorial Nino Pizza che comunque vogliamo farlo, almeno entriamo in campo in piena sicurezza. Dobbiamo essere sicuri che tutti i nostri giocatori stiano bene.